Resta in stand by nella giunta Alessandrini da lista Teodoro per Pescara. L'assessorato promesso al movimento politico dal primo cittadino non si è ancora palesato, ma ai nostri microfoni il capogruppo Pier Nicola Teodoro ribadisce che non è certo un problema di poltrone, ma di programmi per il bene della città. Come abbiamo più volte precisato sia io che il consigliere Pignoli, noi non interessano nei poltroni, noi vogliamo parlare di programmi, vogliamo parlare di futuro, di rilancio della città e se ci sono i presupposti per un rilancio serio della città, con un lavoro serio, con progetti seri, con programmi seri, noi saremo anche disponibili. Non ci piace riscaldare le varie poltrone e né siamo qui per avere qualche poltrone. Non l'abbiamo chiesto da nove mesi, non lo chiediamo, vogliamo solo il bene della città di Pescara. Se oggi abbiamo un bilancio così ricco anche, questo è anche un po' merito nostro, a noi ci interessa parlare della riqualificazione delle periferie, a noi ci interessa parlare della sicurezza della città, a noi ci interessa parlare del turismo, a noi ci interessa parlare del rilancio di questa città sotto l'aspetto edile, sotto l'aspetto urbanistico. Ecco, noi di questo vogliamo parlare. A chi dice però che in Consiglio Comunale spesso i vostri emendamenti rallentano i lavori, lei cosa risponde? Io faccio gli emendamenti come è previsto dalla legge e dal regolamento per migliorare unitamente il Consigliere Pignone. Noi vogliamo solo migliorare la delibera. Poi questo non avviene, io l'unico mezzo che ho per poter migliorare la delibera come è previsto dalla legge è l'aula del Consiglio Comunale. È lì che posso dare il massimo di me stesso, è lì che tutte le prerogative le posso mettere sul campo. Poi ci sono le leggi, ci sono i regolamenti che impongono e definiscono determinati programmi. Io oltre la legge non sono mai andato, per cui cerco di fare quel che è possibile, ma sempre per il bene della città. Io sfido chiunque a trovare un emendamento che vada o che sia stato approvato o presentato a favore e a vantaggio della lista di Odoro o di noi. Grazie. 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 Grazie.